Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Il mistero intorno alla morte di Liliana Resinovich si infittisce sempre di più, durante una telefonata nella trasmissione di quarto grado, il marito Sebastiano Visintin ha sentito al telefono Sergio, che al cognato ha lanciato pesanti accuse e parole incisive. Dopo la riesumazione del corpo della 63enne di Trieste, Visintin ha cambiato versione sulle circostanze della morte della moglie, prima sosteneva l'ipotesi di omicidio, ma ora è convinto che si tratti di suicidio. Queste discrepanze non sono passate inosservati ai familiari di Liliana, rappresentati dal fratello Sergio, il quale ha rifiutato categoricamente di parlare con Visintin, te lo dico chiaramente, non voglio avere a che fare con te, ha dichiarato, aggiungendo, da due anni racconti bugie, anche alla polizia. Sei consapevole delle tue menzogne? Dici tutto e il contrario di tutto, ma stai scherzando, continua Sergio Resinovich, che aggiunge, continui a dire, dobbiamo trovare, ma cosa vuoi trovare? Sergio ha poi rimproverato Visintin per le sue continue contraddizioni, esortandolo a dire la verità e respingendo l'accusa di essere influenzato da qualcuno, nessuno mi ha mai detto cosa dire, ha ribattuto, apostrofando poi Visintin con l'epiteto pagliaccio. Infine, Visintin ha proposto un incontro, ma Sergio ha tagliato corto, è meglio se non ci vediamo, altrimenti ora sarei in qualche prigione italiana. Cosa ne pensate delle dichiarazioni del fratello di Liliana, Sergio Resinovich, sul marito, Sebastiano Visintin? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie di cuore.